Io sto staccando un dente a lei. E arriva a Morbegno? E' questo? Tira giù il lato. Lo so. 18.01. Allora, guarda, quello che arriva alle 18.01 c'è anche una cordiera in coincidenza. Di ai se fa male. Che arriva alle 18.10, esattamente dopo 9 minuti. Ai appena fa male. Vabbè, dai, ci risentiamo quando l'hai preso. Comunque quello lì ha una cordiera volendo in coincidenza. Quindi se ti non vedi nessuno vai sulla cordiera e arriva proprio qui in paese. Va bene? Esatto, esatto. Sì, per l'avanzo. Vai in bagno. Allora, andiamo a sciacquare. Però non escludo. No so, il primo dente è un sacco di sang.